ciao a tutti ragazzi io sono Roby e bentornati sul mio canale oggi è sabato quindi ecco a voi un nuovo video scopriamo le creazioni in resina allora da dove possiamo cominciare io direi di cominciare da questo che in realtà è semplicemente un esperimento ho messo della resina trasparente in questo stampino 3d per il criceto e ho voluto inserire due pom pom per vedere l'effetto però in realtà due buttati là così non è che siano proprio bellissimi però vi devo dire che anzi visto da così non mi dispiace affatto neanche questo è molto carino ragazzi che ne dite vi piace l'effetto a me piace molto io pensavo di inserire dei pom pom ma più che altro guardate che carino l'effetto sul musetto magari su gli stampini quelli a cuore e quindi bene lo farò prossimamente benissimo andiamo a scoprire questa piccola medusa ho spennellato dei pigmenti nuovi e mamma mia che belli sono tipo lo stardust però sono di vari colori questo era quello verde acqua e ho fatto anche la colata verde acqua infatti ed è bellissima un effetto molto molto bello tra l'altro questi pigmenti hanno un packaging troppo troppo carino magari ve lo faccio vedere a fine video allora vediamo questo qui questo l'ho fatto sempre con questi pigmenti ma ovviamente questo è un rosa bellissimi rendono veramente tanto tanto bene qui non ho spennellato benissimo ecco mi devo ricordare che devo spennellare in maniera più omogenea possibile altrimenti si vede questo cambio di colorazione qui avevo spalmato un po meglio ma non ci lamentiamo allora vediamo queste farfalline che sono semplicissime verde acqua e questo rosa quasi tendente all'illa questo è un abbinamento che mi piace tantissimo carine molto molto carine questo ho provato a fare i bordi delle ali e devo dire che questo effetto mi piace tantissimo più di questo metà e metà sì veramente veramente carine poi questi colori pastellosi rendono sempre tanto bene allora poi tiriamo fuori questo che in realtà dovrebbe essere semplicissimo quindi solo così solo questo rosino pastello molto molto delicato eccolo qui questa forma è sempre bellissima super lucido bolla e vabbè tanto era una cosa molto molto semplice non è un problema bene ma allora vediamo sempre questi qui che l'ho fatti sempre con questo con questo metodo dei pigmenti spennellati sopra diamo la conchiglia ma che bella è è veramente bellissima quindi la conchiglia grande e ho fatto ovviamente abbinate le due conchiglie piccoline e ragazzi un applauso per me perché non ho fatto strabordare la resina su questo stampo delle conchiglie cosa che non mi è mai successa quindi brava a me brava a me poi la stella bellissima questo è un rosa diverso da questo vedete che questo è più intenso e questo è più delicato e forse preferisco questo quindi stella marina e le due stelline piccine eccole qua bene bene quindi sono molto soddisfatta di questi pigmenti mi stanno piacendo tanto poi che cosa ho fatto ho rifatto questi due shaker perché l'ultima volta se vi ricordate li avevo fatti ma non ero molto soddisfatta perché avevo messo dei glitter e l'effetto finale non mi piaceva per niente e quindi ho voluto rifarli semplicemente con dei colori pastello e vediamo se intanto vediamo se riesco a non distruggere lo stampo potrebbe essere una cosa buona ed eccolo qui sì mi piace molto di più peccato che qui ci siano venute due micro bollicine che però si può si può a cui si può remediare senza problemi forse perché ho fatto lo strato dietro troppo troppo sottile comunque molto molto bello così mi piace più così e vediamo anche questo gelatino guardate già da dietro quanto è carino comunque i colori pastello io ho capito che mi piacciono molto di più al naturale e senza i glitter rendono davvero tanto di più infatti anche lui è mille volte più bello guardate che bell'effetto che è venuto qui sulla base e qui ha due puntini si vede che erano dei glitter che erano rimasti nello stampo e questo l'ho lasciato proprio con il buchino ed è veramente veramente bello andiamo avanti e vediamo questi due unicorni questi stampi ormai li amo e li vedrete praticamente in ogni scopriamo e l'ho fatto verde acqua e lilla ed è stupendo ma guardate quanto sono lucidi sono meravigliosi questi stampi e vediamo questo col corno super lungo eccolo qua questo l'ho fatto rosa e celeste è bellissimo questi due stampi veramente danno tante soddisfazioni bene bene allora tiriamo un attimo fuori questo che però già vedo che ha dei problemi vedete com'è unto perché ho provato a mettere il colorante blu che mi davano per lo squishy gel ho detto vabbè che sarà mai non andrà bene anche per la resina invece no è super unto aiuto quindi questo era anche carino questo effetto ma no guardate oddio è orribile e quindi niente lo mettiamo via avevo già preparato il tovagliolo per metterlo via perché avevo visto che era tutto aveva fatto tutto quello untume insomma allora tiriamo fuori le due lunine e niente anche queste sono quelle cose che non riesco ad usare bene anche qui ho inserito quei glitter e devo dire che l'effetto è molto molto bello bellissime sì qui ovviamente c'è da rifilare ma molto molto oh belle le dovrei attaccare così e fare un ciondolo così belle vedete non volendo come nascono le idee molto molto carine vediamo la gemella più grande che però ho fatto con il pigmento più chiaro ah no con quello oddio ma sei bellissima questo è lilla e ho messo lo stesso lilla dell'unicorno con il pigmento spennellato sopra viola wow sei stupenda molto più bella che queste bene bene scusate la gola allora andiamo a vedere questo piccolo cavallotto ad ondolo che come potete vedere ho fatto con i glitter olografici ma non mi ricordo di che colore argentati ed eccolo qui quanto è carino guardate che bell'effetto questo quanto è olografico è bellissimo bello 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 vediamo il nostro pikachu anche lui cioè il retro del pikachu è meraviglioso ovviamente ho fatto con il pigmento olografico giallo e wow quanto rende con il nero dietro guardate wow 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 meraviglioso cioè è stupendo messo così sembra quasi oro vero e poi ho questo nuovo stampino di luna p che ho fatto così e non volevo colorare i dettagli per la prima volta che lo colavo per vedere bene bene lo stampo e qui ho messo i glitter olografici neri che però vi dirò non è sì si vede che sono olografici però per esempio rispetto a un pikachu cioè guardate che differenza e vabbè però non è male è un pochino più sobrio forse è anche carino questo per un portachiavi è bellissimo ma anche per una collana devo dire ok mi è rimasto l'ultimo stampino che ormai è praticamente il mio preferito che è questo gattino un po' un po' creepy con i cornini e ci ho messo gli occhi sì che bello ed eccolo qua oh mamma mia è stupendo ragazzi è meraviglioso e anche su questo stampo ho praticamente spennellato i vari pigmenti quello viola il rosa un pochino più intenso il rosa più chiaro in questa maniera simmetrica e con questi occhi verdi è spettacolare è bellissimo ok veramente bellissimo ragazzi più lo guardo e più mi piace bene quindi queste erano tutte le creazioni del mio scopriamo di oggi e io devo dire che la mia preferita è sicuramente il gattino ma anche questo Pikachu perché è veramente ha un effetto wow ok ragazzi fatemi sapere giù in un commento qual è la vostra creazione preferita e se il video vi è piaciuto mettete ovviamente un like e oggi facciamo un altro giochino dell'emoticon quindi vi chiedo di commentare se siete arrivati ovviamente fino a qui a vedere il mio video vi chiedo di commentare con l'emoticon di un fruttino quindi un emoticon a tema frutta bene ragazzi per oggi vi saluto qui vi mando un enorme bacione e vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che mi date e ci vediamo al prossimo video ciao ciao